Ciao a tutti e bentornati su ProKitchen. Oggi vi voglio far vedere una cosa un po' particolare, la clorofilla di basilico. E poi vi farò vedere anche un modo carino per utilizzarla. Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Mi piace così ne potrai vedere tanti altri. Iscriviti al canale, condividilo. Ciao!